Decine di cassonetti bruciati, pali della segnaletica di Velti e pietre sparse lungo l'asfalto. È uno scenario da guerriglia urbana, quello di oggi pomeriggio in una piazza indipendenza chiusa al traffico dalla polizia municipale. Dopo l'ennesimo incontro saltato col governatore Crocetta, gli ex PIP della regione siciliana hanno dato vita a una protesta degenerata in duri scontri con le forze dell'ordine intenute antisommossa. Alcuni manifestanti sono rimasti feriti durante gli scontri. I lavoratori si dicono esasperati, chiedono risposta al presidente della regione e gridano di essere vittime di macelleria sociale. Abbiamo subito carichi della polizia senza nessun motivo, stando fermi senza muovere, solo perché dice che abbiamo bloccato il traffico e siamo stati fermi con le braccia alzate e ci hanno caricato. Dovete dire al signor presidente della regione che invece di fare la prima donna in tutte le testate regionale e nazionale, promettendo a destra e a sinistra che mantenga quello che ha promesso. Ma devi soldi, voglio 730 euro, voglio auto per mangiare bocci. Chiediamo a Crocetta che si faccia un esame di coscienza in maniera pulita, 3.000 famiglie e mezza alla strada. Lui è quello che dice che vuole parlare con il popolo, ma di questo non le sta facendo niente, anzi ci sta chiudendo le porte. Noi speravamo che lui ci togliesse dal fango, dall'illegalità, ma lui sta dando prova che tutto questo non è così. Noi siamo vittime del sistema, questo sistema non l'abbiamo voluto noi. Il segretario regionale FISASCAT Sicilia, Mimma Calabro. Oggi si è scritta una brutta pagina della democrazia in Sicilia. Qui abbiamo un problema sociale, parliamo di 3.048 famiglie, perché molti di loro sono meno reddito. Se di reddito si può parlare quando uno di questi lavoratori guadagna 750 euro più gli assegni familiari. Oggi li ritroviamo in piazza, sgomenti, confusi. E allora rispetto a questo ne chiediamo al Presidente Crocetta, alla sua giunta e a tutti quanti, a tutti i deputati regionali, di affrontare questo problema. Questo è anche lotta alla mafia, è dare un lavoro, dare dignità, non lasciare queste persone che domani possono essere ostaggio della mala politica, che le ha sempre utilizzate e sfruttate come bacina elettorale e della mala vita. Grazie a tutti.